Ciao a tutti da Chris Attigel, salutatore del blog, eccomi qui insieme al mago Carlo Fox e vi saluto tutti, e Claudio Spampinato, un tetto, un passo e un gioco. Salutiamo tutti quanti gli amici di Facebook, YouTube, Twitter, MySpace, anni 70-80 e buon sorriso a tutti quanti. Ciao. Ciao a tutti.